In una tre giorni di riflessioni e ricordo viene celebrata nel comune di Terra Nuova Bracciolini la figura di Don Amelio Vannelli, parroco che aiutò molti ebrei durante la seconda guerra mondiale. Fu nominato a Gerusalemme giusto fra i popoli per la sua dedizione e vocazione, adesso il comune gli rende omaggio. Sabato alla Traiana alla Santa Messa in suo onore è l'intitolazione della piazza del paese che dette i Natali al parroco. La domenica poi l'intitolazione a Don Amelio della casa di riposo dove morì nel 1995. E a seguire presso la sala consigliare a Terra Nuova Bracciolini un ricordo sentito della cittadinanza con racconti ed aneddoti della vita del parroco. L'assessore alla cultura Barbuti e la compagnia Dritto e Rovescio che ha organizzato le giornate. Anche su sollecitazioni di molti cittadini di trovare un momento, insomma dei momenti per celebrare e ricordare Don Amelio Vannelli che ha trascorso la sua vita qui e anche diciamo nel comune di Pergine Valdarno. Infatti martedì abbiamo fatto un concerto organizzato a Piava Presciano. Noi come associazione abbiamo restaurato un filmato del cinquantesimo sacerdozio e abbiamo rimontato con interviste fatte da persone ancora superstiti che erano a Cacciano e che hanno raccontato l'impegno contro le presunzioni nazifasciste e Don Amelio aveva avuto in quel periodo. e niente racconteremo questa storia con l'ausilio di Irene Risorti che reciterà appunto le storie che abbiamo raccolto oltre a proiettare le immagini originali dell'epoca.